Mens sana in corpore sano. Valido ancora è il titolo dato al dibattito, ma soprattutto la tematica che si affronterà nell'ambito della tavola rotonda promossa da Telenuova e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri patrocinata dal Comune di Pagani e dalla quale prenderanno parte i pediatri del territorio, i dirigenti scolastici e i presidenti di circolo dei genitori, oltre che il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione della città di Pagani. Sensibilizzare il mondo della scuola e di amministratori della cosa pubblica sull'importanza della pratica sportiva per lo sviluppo psicofisico dei giovani, dei ragazzi in età scolare, dall'infanzia alle superiori, fasce di età delicate che meritano tutta l'attenzione e l'interesse da parte del mondo degli adulti. Su basi scientifiche, studi e ricerche, recita il noto motore di ricerca Wikipedia per esempio, è stato dimostrato che vi è una stretta correlazione tra le capacità motorie e le capacità attentive e mnemoniche di una persona. Nello specifico, le relative ricerche di Darla Castelli, Charles Hillman, Sarah Bach, Heather Hervin dell'Università dell'Illinois, pubblicate nel Journal of Sport Exercise Psychology, hanno dimostrato che una buona forma fisica è stata associata positivamente ad indici neuroelettrici di attenzione e di lavoro della memoria. Howard Taras, nella sua relazione pubblicata nel 2005 dal titolo Physical Activity and Student Performance at School, ha dimostrato che gli studenti sono fisicamente attivi, presentano maggiore attenzione durante le lezioni rispetto a studenti sedentari. La satira decima di giovenale, mens sana e incorpore sano, dunque tutta volta a dimostrare la vanità dei valori o dei beni, come ricchezza, fame e onore, che gli uomini cercano con ogni mezzo di ottenere. Solo il sapiente vero si rende conto che tutto ciò è effimero e talvolta anche dannoso. Nell'intenzione del poeta, l'uomo dovrebbe aspirare a due beni soltanto, la sanità dell'anima e la salute del corpo. Queste dovrebbero essere le uniche richieste da rivolgere alla divinità che, sottolinea il poeta, sa di cosa l'uomo ha bisogno più dell'uomo stesso. L'idea che corpo e anima possano crescere e svilupparsi soltanto insieme è anticipata nel modello di scuole ed educazione proposto da Aristotele nella politica. In quest'opera si afferma anche un'antitesi tra corpo e mente che devono essere sforzati separatamente e in momenti diversi per evitare che lo sforzo di una vanifichi e impedisca l'altro. La ginnastica sviluppa il coraggio e deve essere temperata dallo studio della musica per evitare l'eccesso, cioè che il coraggio diventi ferocia. Ritorica e ginnastica non sono scienze, poiché il risultato non è certo irripetibile. Gli esercizi viaggiano insieme al lavoro pesante e alla nutrizione forzata e vengono adattati all'età e alla costituzione del singolo. La pavola rotonda che si terrà domani alle 16.30 presso la Pinacoteca dell'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani vedrà anche diverse testimonianze e sarà un'importante occasione di confronto ma anche un input ai dirigenti scolastici affinché si possa favorire la pratica sportiva degli studenti sia a scuola e in orario curriculare ma che nella vita privata di ognuno alleggerendo l'approfondimento a casa che di fatto sottrae tempo e serenità all'attività agonistica o non agonistica che i ragazzi scelgono di fare. Grazie a tutti.